Ha il nome dell'eroe per eccellenza del calcio Napoli, il primo bimbo nato nel 2020 nel capoluogo partenopeo, che venendo alla luce esattamente a mezzanotte, è il primo nato in Italia. Si chiama Diego, pesa 2,9 kg ed è nato nel reparto di ostetricia del Buon Consiglio del Fatebene Fratelli, per la gioia di papà Fabio e mamma Marica. A seguire Diego c'è stato Francesco Pugliese, primo nato in Irpinia, che è venuto alla luce cinque minuti dopo la mezzanotte all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. È stato bellissimo, perché secondo figlio poi è una cosa bellissima. È nato subito, veloce veloce, però è stato bello. I autori sono stati bravissimi, le ostetriche eccezionali, molto pazienti, di poche ore. Sono arrivate alle nove, a mezzanotte è nato. Dorme, mangia e dorme, è tranquillo, tranquillo. Francesco è nato, è nato stanotte a mezzanotte 05, da un parto normale, quindi da un parto eutocico, pesa 3,50 kg, lungo 50 cm e la circonferenza granica è di 34. È una bellissima bambina, la prima nata nel 2020 nel Sagno. Si chiama Greta, pesa 3,8 kg ed è nata alle 3.30 del mattino all'ospedale Rummo di Benevento. E la secondogenita di Giuseppina Corrado, casalinga, è Antonio Oliva Zuccaro, elettromeccanico, una coppia di Montesarchio, che è già un figlio che si chiama Michele.